Chi è Gesù Cristo? Di fronte alla domanda che Gesù rivolge ai Suoi Apostoli, sapremo noi rispondere riconoscendo l'identità di Cristo che è Signore della nostra vita. Dal Vangelo secondo Matteo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Finippo, domandò ai Suoi discepoli La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Cosa dice la gente? Coloro che non hanno incontrato Gesù ma ne hanno solo sentito parlare. Le risposte guardano al passato, al già visto e conosciuto. Disse loro Ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. La domanda si fa ora intima e diretta. Se i primi hanno risposto pensando chi è Gesù per me o come vorrei che Gesù sia, ora Gesù vuole liberarci dai pregiudizi. Chi è Gesù? Non farti un Dio a tua immagine. Accogli Gesù per chi è e non per come lo vorresti. E Gesù disse Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Pietro ha saputo accogliere quanto la fede gli rivelava. Ha saputo mettere da parte se stesso. Si è dimostrato trasparente del dono ricevuto. E io a te dico Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. È questa una promessa e una profezia. Dio non abbandona la chiesa nonostante la chiesa. E a te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Tutto questo perché e finché la chiesa guarda a Cristo. So nella mia libertà affidarmi alla chiesa che Dio mi dona. Allora ordinò i discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Dall'ora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli iscrivi e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Non c'è chiesa senza croce. La passione di Cristo è la strada da seguire. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo Dio non voglia, Signore. Questo non ti accadrà mai. Quanto è umana questa paura! Ma egli voltandosi disse a Pietro Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Come oggi posso agire secondo Dio e non secondo gli uomini.